La mano de Dios, il mio omaggio a Dio Armando Maradona con il gol del secolo, un murales che rappresenta la vittoria del bene sul male, il gol per la liberazione contro le ingiustizie ma anche il dribbling che lui ha firmato in questo palazzo contro le ingiustizie e il fisco, gli abusi e ora finalmente dopo oltre 30 anni è stato dichiarato innocente, no wanted Maradona. Questo è il nostro regalo per te, per il tuo compleanno 30 ottobre 2024 a te che sei sempre vivo nei cuori di tutti noi. Grazie.